Perché questo è il settimo anno, sei li hanno vinti e quest'anno sono primi a quattro giornate alla fine, quindi è uno strapotere tecnico, tattico, economico di tutti i tipi e stanno imprimendo sul nostro campionato, negli ultimi tre anni hanno fatto due finali Champions, quindi è chiaro che stiamo combattendo con una realtà enorme rispetto a noi. Noi abbiamo il merito che il nostro è l'unico campionato europeo che è in vita, ha ancora un interesse.